E adesso invece vediamo sempre un altro servizio di Gabriella Finocchiaro, alla Basilica Collegiata di Catania si è tenuto il convegno Donne e Costituzione. Sull'argomento sentiamo l'intervento dell'arcivescovo di Catania Luigi Renna e di Mariella Aurite, presidente del Circolo Femminile Sant'Agata, che ha promosso l'evento. Vediamo le interviste di Gabriella Finocchiaro. La maniera più vera per celebrare questa giornata è ricordare i diritti della donna, che se in Italia sembrano acquisiti, forse non da tutta la popolazione ma certamente dalla legislazione, in alcuni paesi del mondo non abbiamo lo stesso riconoscimento. Ricordarcelo significa sentirci corresponsabili di tutto quello che avviene nel pianeta. Io nel mio intervento farò riferimento alle 21 donne costituenti, tra le quali c'è una catanese, Maria Nicotra, che è bene ricordare perché si è resa protagonista della firma con altre persone, con altri deputati, nella prima legislazione di importanti provvedimenti, come quello delle case popolari o la lotta alla tubercolosi nelle scuole. Ecco, una storia molto bella che grazie a Dio continua, ma come dicevo non dobbiamo dimenticare chi oggi, in alcune parti del mondo, di questi diritti non può godere. E ahimè, anche nella nostra città la società civile non ha recepito fortemente, pienamente, il senso della dignità della donna. È da circa 30 anni che noi ogni anno proponiamo una conferenza proprio con tematiche sociali attuali. Chiaramente da due anni, questo è il primo anno dopo la pandemia, che ricominciamo. E chiaramente per noi è stato un grande onore che l'arcivescovo, appunto, in carica, ha accettato di relazionare su questa tematica che era donne e costituzione. Donne e costituzione è un tema molto importante e che è molto a cuore al nostro Papa Francesco. Ci sarà anche a collaborare, appunto, a questa relazione la dottoressa Zito, che è il direttore della Casa Circondariale di Piazza Lanza. Questo è un momento per noi molto importante, uno dei momenti più importanti che segna l'associazione, perché diciamo sempre a tutti che Sant'Agata non è soltanto 3, 4 e 5, ma bensì è proprio, non dico la preparazione, ma l'educazione alla nostra cara Agata che ci insegna semplicemente di essere seguaci di Cristo. E quindi diciamo, viva Sant'Agata, perché Sant'Agata è viva!